Il presepe vivente di Resuttano compie 20 anni e a tal proposito la parrocchia Maria Santissima Immacolata di Resuttano, la comunità ecclesiale e l'oratorio Sant'Arcisio comunicano che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla ventesima edizione. Nel comunicato fanno presente che i partecipanti dovranno compilare entro il 10 dicembre un modulo che potrà essere reperito o alla biblioteca comunale di Resuttano o alla chiesa madre. Tutti gli iscritti il 10 dicembre alle 16 dovranno ritrovarsi all'oratorio Sant'Arcisio per la consegna degli abiti dei personaggi del presepe vivente. Infine sabato 15 dicembre in parrocchia si svolgerà un incontro con tutti i personaggi, i volontari e gli allestitori per stilare il programma.